Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Faccio una piccola premessa perché questo è un video che ho dovuto riadattare perché riguardandolo non mi ero letteralmente accorto che l'audio si è praticamente sfasato e di conseguenza a un certo punto parte la musica senza che io ovviamente mi riesca a sentire più perché la musica sovrasta totalmente il mio parlato quindi ho dovuto riadattare un attimo il video e spero che ovviamente possiate godervelo anche in questa versione. Mi scuso per il disagio perché credevo appunto di averlo controllato ma a quanto pare avrò caricato forse una versione sbagliata del video. Detto ciò vi lascio al vero video e ci becchiamo alla prossima. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi parliamo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origins un titolo che effettivamente sul mio canale ho trattato poco e da un lato me ne dispiaccio perché in realtà è un gioco che secondo me meritava un po' più di attenzione rispetto a quello che effettivamente io stesso ho offerto proprio sul panorama videoludico e anche della critica tra virgolette che è possibile fare qui soprattutto in Italia. Un titolo che inizialmente devo ammettere ho trattato un po' aspramente. Ho criticato tante tante cose a partire comunque dall'aspetto grafico che sul PS5 non mi aspettavo potesse raggiungere questi livelli bassi che per me comunque rappresentavano dei livelli bassi avendo comunque giocato titoli ben diversi e anche un po' più impacchettati bene dal punto di vista grafico mi sono ritrovato comunque Stranger of Paradise che mi ha un pochettino dato un pugno sullo stomaco. Anche dal comparto tecnico non è uscito granché anche perché appunto stiamo parlando di un Final Fantasy in cui gli NPC con cui parli sono praticamente identici sono tutti uguali solo cambia appunto il colore dei capelli o al massimo il colore degli occhi ma la fisionomia dei visi è praticamente identica una cosa che io ho criticato in maniera veramente dura nei confronti del gioco e poi per quanto riguarda ovviamente la costruzione, lo scheletro di questo titolo e anche quello che possa essere il gameplay è un qualcosa di puramente soggettivo per cui non mi sento di dare un'opinione negativa o positiva. può piacere così come non può piacere, questo mi sembra abbastanza ovvio certo il fatto però di non avere un'esplorazione ma soltanto una selezione di livelli per un gioco come Final Fantasy che rappresenta praticamente l'RPG o comunque quel JRPG dove l'esplorazione e il poter appunto utilizzare una world map siano praticamente fondamentali in questo caso non ce l'abbiamo questo forse per chi come me è un po' più nostalgico potrebbe effettivamente essere stato un brutto colpo da digerire ma che per quello che ti offre il gioco comunque sia reputo che possa starci come compromesso per quanto riguarda il resto dal punto di vista del gameplay devo ammettere io mi sono veramente divertito molto a me piacciono tantissimo questo genere di giochi similneo o comunque degli RPG un po' più action di conseguenza mi sono molto divertito ad approfondire il discorso delle build mi sono molto divertito ad approfondire le varie meccaniche di gioco e tutto ciò che ovviamente il gioco stesso poteva offrirti non solo nella sua versione base dove appunto la storia sembra essere praticamente scontata fin dal primo video fin dalla prima cutscene dove poi effettivamente è così però il modo in cui è stata raccontata il modo in cui ti presentano i personaggi soprattutto il personaggio di Jack Garland ti permette comunque di rivalutare un attimino quelli che sono i personaggi ti permette di rivalutare soprattutto il personaggio di Jack Garland che inizialmente conosciuto come cattivo e presentato addirittura come uno dei quattro cavalieri della luce all'inizio si rivela essere un anti-eroe che però ha il fatto suo ha un carattere estremamente forte caratterizzato molto molto bene dove purtroppo la sua caratterizzazione sfocia nel diventare un po' stereotipata e mematizzata con i suoi vari bullshit o la sua problematica a questo punto ossessione verso Chaos dato che appunto in uno dei trailer pronuncia la parola Chaos più delle parole che servono a comunicare con i suoi compagni di squadra rende il tutto sinceramente un po' meno serio che da un lato credo fosse appunto un'intenzione dello sviluppo del gioco per non renderlo un mattone e quindi permettere alla gente di poterlo giocare e di poterlo vivere più normalmente secondo i giorni nostri però da altro lato purtroppo abbiamo visto come tutto ciò possa aver influenzato anche la qualità del titolo stesso qualità del titolo che però mi sento di elogio dal punto di vista DLC dove un primo DLC ovvero con i trial di Bahamut e la storia che si andava ad intrecciare con quello di Bahamut risultava essere un po' superficiale e forse forzata si è ripresa alla grande dal punto di vista di gameplay con il DLC del warrior of the void quindi del secondo DLC con Gilgamesh come protagonista che ci ha permesso di aprire gli orizzonti verso una modalità di gioco letteralmente infinita dove è possibile scalare e comunque interagire con questi portali dimensionali e avere la possibilità di migliorare se stesso di formare equipaggiamento di ottenere anche i potenziamenti per le classi e quindi rendere il tutto estremamente più bello e versatile per poi finire con l'ultimo DLC different future che non solo lascia due strade aperte una con il finale classico e canonico del primo Final Fantasy che tutti quanti conosciamo e un altro futuro che potrebbe aprire le porte addirittura verso la saga di un nuovo Dissidia quindi perché no perché non abbracciare queste ipotesi perché non abbracciare questo percorso e quindi sono stato molto soddisfatto dal punto di vista di trame di gameplay però solo con gli ultimi DLC dal lato gameplay invece devo ammettere che mi sono divertito molto mi sono divertito molto come dicevo prima io adoro o comunque mi sto molto appassionando a questo genere di action RPG che mi permette comunque di migliorarmi mi permette comunque di avere la possibilità di affrontare un percorso all'interno del gioco di self improvement quindi una sorta di curva ascensionale dove inizi magari a prendere qualche schiaffo giustamente però poi alla fine ti ritrovi anche a dare questi schiaffi e penso che la prerogativa di questi giochi sia proprio questo quindi permettete di migliorare diventare sempre più forte e poi riuscire finalmente a giocare come meglio credi ecco su Stranger of Paradise questo l'ho notato ma ovviamente essendo un titolo molto simile a Neo se non praticamente identico anche perché il team di sviluppo è lo stesso e ti consente di giocare in questa direzione per il resto ci sarebbero altre cose da valutare come per esempio la narrazione come per esempio anche la trama di cui abbiamo parlato per sommi capi all'inizio ma che possiamo riprendere in un discorso un po' più maturo dove effettivamente il personaggio di Jack Garland accompagnato dagli altri suoi compagni consentono di sviluppare e narrare una storia che noi già conosciamo ma sotto una prospettiva diversa quindi avere la possibilità di vedere una prospettiva diversa di questo titolo soprattutto verso la parte finale ti permette di avere una consapevolezza del personaggio che hai di fronte e soprattutto ti permette anche di visualizzarlo meglio io per esempio la parte finale del gioco l'ho veramente apprezzata tanto sia per il metodo narrativo sia per quanto riguarda anche tutte le interazioni che sono avvenute tra i personaggi ma la parte finale veramente il video proprio finale la parte finale è quella che mi ha praticamente fatto rivalutare tutto il titolo ed è anche per questo che ho detto ad inizio del video essere un po' un peccato non averlo trattato con il giusto rispetto e come effettivamente secondo me doveva essere trattato questo titolo perché purtroppo se ne è parlato poco almeno rispetto a tanti altri titoli che sicuramente hanno avuto una pubblicità più grossa ma che fondamentalmente sul piatto non hanno messo niente e che in realtà si potevano tranquillamente giocare un posto con Stranger of Paradise Stranger of Paradise è stato un po' un titolo di nicchia ha scaldato i cuori magari dei più nostalgici ha scaldato i cuori magari di quelli che effettivamente desideravano mettersi alla prova con un gioco del genere anche perché chi ama il genere comunque lo gioca per il gameplay chi ama la saga di Final Fantasy chi ama i capitoli comunque di Final Fantasy lo gioca fondamentalmente per la trama si può giocare in entrambi i modi fortunatamente i mezzi ci sono quindi si può in un qualche modo accontentare un bacino di utenza molto più grande e questo penso che sia stato un ottimo passo in avanti per quanto riguarda la saga di Final Fantasy infatti adesso stiamo vedendo come anche con il progetto remake Rebirth e successivamente con Final Fantasy XVI abbiamo la possibilità comunque di distaccarci dalla vecchia tipologia di giochi di ruolo o comunque di JRPG e spostarci verso quello che è più un mercato globalizzato con per l'appunto un action RPG addirittura come Final Fantasy XVI un full action proprio perché ti consente di essere molto più dinamico molto più frenetico che giustamente toglie un po' del tecnicismo che si vede all'interno di Stranger of Paradise per arricchirlo magari con effetti un po' più speciali quindi come i film praticamente americani e successivamente avere la possibilità anche di interazioni diverse detto ciò ovviamente io consiglio assolutamente di giocare a questo titolo adesso è disponibile anche su Steam quindi si ha la possibilità comunque di poter accedere più facilmente a questo titolo io spero in fin dei conti di aver reso un pochettino di giustizia a questo gioco come credo che sia giusto così ho fatto anche un podcast su di esso che potete comunque recuperare con altri ragazzi che giustamente hanno detto la loro impressione io detto ciò non ho più niente da dirvi vi lascio con la parte finale del video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima bye bye